La showgirl romana avrebbe ritrovato l'amore, il gossip decolla, ecco chi sarebbe l'uomo che l'ha stregata. Valeria Marini non sarebbe più single. La showgirl, dopo aver visto naufragare la relazione con Patrick Baldassarri, con il quale partecipò a Temptation Island VIP, sarebbe stata colpita e affondata nuovamente dalle frecce di cupido. E chi le avrebbe fatto perdere la testa. È di Sinescalchi, un uomo che non è estraneo al mondo dello spettacolo. Infatti, frequenta sovente volti celebri dello spettacolo. Inoltre è un amico stretto di Jessica e Lucrezia Lulu Selassie, con le quali, poco dopo la fine del grande fratello VIP6, è stato paparazzato da Antonio e Antonio, rinomato ristorante e pizzeria sul lungomare di Napoli. La prima a sostenere che Eddie e Valeria abbiano avviato una relazione d'amore è stata l'esperta di gossip attiva su Instagram Deyanira Marzano, la quale ha assicurato che i due fanno coppia già da un po' di tempo. Il portale Isa e Chi ha inoltre aggiunto che persone vicine alla showgirl e a Sinescalchi avrebbero confermato che i due piccioncini sarebbero innamoratissimi. Sempre Isa e Chi ha spiegato che Sinescalchi, originario di Napoli e attivo in qualità di imprenditore nel ramo finanziario e immobiliare, ha 35 anni, quindi 20 in meno rispetto all'ex di Vittorio Cecchi Gori, che ha tagliato il traguardo dei 55 anni proprio ieri 14 maggio. E dove ha festeggiato e con Chi. Il party è stato organizzato al Roy Show Club di Rotondi, Avellino. Alla cena, a cui sono seguiti balli scatenati, c'erano diversi amici della Marini. E naturalmente, al suo fianco a tavola, c'era Eddie. Non è chiaro da quanto si conoscono i due. Sicuramente da maggio visto che sul profilo Instagram di Sinescalchi c'è una fotografia con Valere datata 2 maggio, molto probabile che però la conoscenza sia avvenuta prima. Per il momento né la Marini né l'imprenditore Campano hanno commentato il gossip che ha iniziato a circolare sul loro conto. Si resta perciò in attesa di conferme o smentite circa la presunta relazione sentimentale in corso.